Brucia la collina Maremmana, a Cinigiano ieri pomeriggio si è sviluppato un grande incendio che ha allambito le case del paese e evacuato 500 abitanti, salvate da due agenti della Guardia di Finanza, due persone disabili. Il fronte delle fiamme si era inizialmente steso verso Castiglioncello Bandini per poi rivolgersi sull'abitato di Cinigiano, interessando agriturismi, allevamenti e abitazioni. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti quattro elicotteri e due Canadair squadre VAB, oltre a una decina di squadre A e B da fuori provincia di Grosseto per ai forestali e vigili del fuoco. Alle 23 dieri sera l'incendio era ancora attivo con l'intervento di squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla Toscana e anche da Parma e Bologna, circa 62 uomini. A causa del rogo ci sono stati disagi nella zona dell'amiata Grossetano per l'interruzione delle linee telefoniche e della rete dati. Anche stamani, avvertono dalla ASL Toscana Sud-Est, all'ospedale di Castel del Piano non è possibile eseguire esami radiologici, fare i prelievi e non si può usare internet. Stessa cosa per il call center di Arcidosso, che risulta isolato e quindi il CUP, centro unico di prenotazione, non è raggiungibile. I tempi di ripristino non sono al momento valutabili in quanto legati alle operazioni di contenimento dell'incendio, conclude l'azienda. E da stamani le persone sono quasi tutte rientrate nelle loro abitazioni, che adesso sono in sicurezza. A dirlo la sindaca di Cinigiano Romina Sani si è trattato di un incendio vasto, arrivato al paese con violenza. Il primo pensiero, ha detto ancora, e obiettivo è stato proteggere la comunità. Abbiamo sezioni di perimetro contenute che non destano preoccupazioni e altre aree ancora a rischio, ma presidiate da vigili del fuoco e servizio regionale AIB, distribuiti sull'abitato e sulle campagne. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà, ha concluso la sindaca.